Questa scuola ha un respiro internazionale, l'obiettivo è quello di sfornare i più bravi project managers dalla Summer School e eventualmente di poterne contratualizzare un paio per i lavori del COEAR. 15 studenti provenienti da 11 paesi diversi per partecipare alla prima Summer School in Project Management organizzata dal COEAR, il centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo dell'Università di Catania, diretto dal professor Riccardo Polosa. Da oggi al 6 ottobre, nelle sale dell'Una Hotel Beach di Giardini Naxos, gli allievi selezionati da una commissione scientifica d'Ateneo seguiranno le lezioni dei massimi esperti in design e gestione di progetti orientati alla ricerca scientifica e clinica. È un progetto che consiste in una Summer School di Project Management. Project Management è una di quelle nuove professioni emergenti. Pensate che entro il 2020 verranno creati circa 20 milioni di nuovi posti di lavoro in ambito di Project Management. È un lavoro che mobilizza miliardi e miliardi di dollari. Tra l'altro è un lavoro che qualifica molto la professionalità delle persone, portando addirittura a una media di incremento del proprio stipendio pari al 15-25%, quindi sicuramente è una cosa vantaggiosa dal punto di vista anche personale e individuale. L'International Summer School on Project Management, capitanata dalla dottoressa Daniela Saita, è il primo dei nove progetti avviati di recente dal COER e ha l'obiettivo di formare professionisti della gestione di progetti di ricerca con un focus specifico sulle scienze della salute. Si prevedono 30 ore di lezione, di cui 10 di tipo pratico dedicate alla creazione e alla pianificazione di un progetto nel settore della riduzione del danno da fumo. Gli studenti avranno docenti internazionali di chiara fama, ognuno con la sua esperienza nel campo, dalla creazione alla pianificazione del budget, alla gestione di un progetto, alla risoluzione di problemi che possono sicuramente nascere all'interno di un progetto. Avranno anche delle attività più piacevoli per visitare la nostra terra che ha tanto da offrire e visiteranno le città attorno a Catania per godere delle nostre bellezze. Gli studenti creano un progetto che alla fine verrà valutato da una commissione di valutazione e verrà premiato il miglior gruppo con un riconoscimento da parte del COER e la possibilità di lavorare e collaborare nel futuro all'interno di uno dei nostri nuovi progetti già avviati all'interno del centro di ricerca. Una vera e propria rivoluzione scientifica che parte da Catania. I progetti di ricerca del COER riguardano il monitoraggio e l'innovazione scientifica e tecnologica, piani di formazione e internalizzazione e iniziative territoriali che vedono coinvolti gli ospedali siciliani impegnati nell'implementazione di un servizio specifico che aiuterà i pazienti a smettere di fumare.